Se amate viaggiare ma non conoscete tutte le lingue del mondo, abbiamo una soluzione per voi. C'è un dispositivo tascabile in grado di tradurre più di 70 lingue del mondo che funziona ovunque collegandosi ad internet gratuitamente. Oggi vogliamo presentarvi il traduttore tascabile Vasco Translator M3 in grado di accompagnarvi in ogni angolo del mondo durante i vostri viaggi ma anche di supportarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano traducendo per voi più di 70 lingue in ogni angolo del pianeta. Vasco Translator M3 non è solo potentissimo, più potente di uno smartphone perché usa contemporaneamente 10 motori di traduzione ma è anche facilissimo da usare perché basta scegliere le lingue di una conversazione e il resto lo fa tutto lui. Ci sono molteplici modalità d'uso per Vasco Translator M3 che può tradurre in tempo reale una conversazione o aiutare durante una telefonata o ancora tradurre in automatico un testo che viene fotografato. Come anticipato il funzionamento di Vasco Translator M3 è davvero molto facile. Basta scegliere le lingue, confermare la propria selezione delle lingue e poi basta schiacciare uno di questi due bottoni per effettuare una conversazione ed ottenere una traduzione in tempo reale. Un metodo molto simile è quello che viene utilizzato per la traduzione delle telefonate. All'interlocutore vengono date alcune indicazioni nella sua lingua all'inizio della chiamata e poi basta premere sui pulsanti per avere una conversazione nelle lingue scelte. Un'altra soluzione incredibile è chiamata Multitalk. È una soluzione attraverso cui si possono creare gruppi di persone che usano lingue diverse che possono dettare o scrivere il loro messaggio che viene tradotto automaticamente nella lingua di ciascuna persona che è parte di quello stesso gruppo. In pratica si abbattono completamente le barriere linguistiche anche quando ci sono gruppi eterogeni formate da persone che parlano lingue diverse. Davvero strepitoso. Vasco Translator M3 è dotato anche di una fotocamera il cui scopo è quello di tradurre i testi attraverso la lettura di immagini. È possibile inquadrare un menù scritto in lingua diversa dalla nostra ed ottenere una traduzione istantanea, cosa che vale anche per testi di lingue orientali con caratteri molto diversi dai nostri. Per completare le funzionalità di Vasco Translator M3 c'è anche uno strumento di apprendimento delle lingue per una delle tantissime lingue supportate che ci può aiutare passo passo nell'apprendimento di una nuova lingua andando di volta in volta a testare il grado di conoscenza che abbiamo raggiunto. Molto semplice e molto efficace. Vasco Translator M3 si collega ad internet grazie ad una sim integrata che funziona in quasi 200 paesi nel mondo ma volendo si può collegare alla rete anche attraverso il wifi che ad esempio è indispensabile per alcune funzioni di aggiornamento. Non solo perché Vasco Translator M3 è stato realizzato con due microfoni in grado di isolare i rumori dell'ambiente e focalizzare la registrazione sull'audio della voce. In questo modo il traduttore tascabile simultaneo è in grado di funzionare perfettamente anche quando si è per strada o in ambienti particolarmente rumorosi. Pesa solo 88 grammi, ha una memoria interna di 16 GB e una batteria da 1700 mAh che garantisce una giornata di utilizzo. Si può acquistare in diversi colori e la confezione contiene anche una custodia di protezione. Il prezzo è inferiore ai 300 euro. Adesso non vi resta che prenotare il prossimo viaggio. Buon divertimento con Vasco Translator M3. Grazie a tutti.